Quanti sono i corridori italiani presenti al Tour de France? Beh, purtroppo sono soltanto sette e siamo stati superati nella classifica dei corridori per nazione anche da paesi scandinavi come Danimarca e Norvegia, mentre i paesi storici come l'Italia, quindi Spagna, Belgio, Olanda e anche la Francia ovviamente hanno nettamente più corridori di noi. Chi sono i corridori italiani presenti al Tour? Giulio Ciccone della Lidl Trek che punterà le tappe chissà forse alla Maglia Poix, Matteo Trintin del Team Way Emirates, Bettiol dell'Education First, Mozzato dell'Archea che sarà probabilmente l'uomo delle volate di questa squadra, Jacopo Guarnieri della Lotto Destiny che tirerà le volate a Kale B1, Gianni Moscon della Stana e Daniel Oss della Total Energy che supporterà Peterone Sagan.